Ciao, sono Chiara di Potere al Popolo, candidata a Napoli al Collegio Uninominale del Centro Storico. Sono qui per spiegarvi brevemente, visto che siamo nell'ambulatorio dell'ex OPG, qual è la situazione della sanità e cosa propone Potere al Popolo rispetto a questo tema. La questione è molto semplice, i problemi della sanità riguardano, come in tanti altri aspetti delle politiche sociali, due aspetti principali. Il primo sono i tagli costanti e frequenti nel corso degli anni che sono avvenuti al Sistema Sanitario Nazionale e che hanno imposto una costante privatizzazione del servizio. Sono ormai 12 milioni di italiani che non si curano più presso gli ospedali pubblici per le lunghe liste d'attesa, per il costo dei ticket, perché è diventato insostenibile purtroppo in molti casi l'accesso alle cure è garantito per tutti ed è per questo che si è reso necessario immediatamente per noi provare a rispondere nel nostro piccolo a questo bisogno, costruendo un ambulatorio dove ci sono medici volontari e si fanno visite specialistiche e di base per garantire a tutti un accesso alla salute. La questione della sanità pubblica va preservata, secondo quello che è anche il nostro articolo costituzionale, articolo 32, che dovrebbe garantire una sanità gratuita, libera e universale. Purtroppo sono i tre aspetti che oggi vengono a mancare, è una politica sanitaria che vuole ritornare ad essere fedele ai propri principi costituzionali, a dei principi che garantiscano le cure per tutti, deve tornare a evitare e combattere contro la privatizzazione e soprattutto a riorganizzare il sistema sanitario affinché sia preponderante una medicina della prevenzione, che non si attui semplicemente una medicina d'emergenza, ma che ci siano dei presidi sanitari garantiti con i medici di base, che facciano rete con altri specialisti, con i consultori da attivare nelle reti in tutto il paese ed evitare quindi che i tagli di questi anni continuino a smantellare il sistema. Questo è il nostro progetto, per questo che andiamo a lottare nelle piazze e nei luoghi istituzionali per garantire che il diritto alla salute sia finalmente non in vendita, ma sia garantito per tutti. Grazie a tutti.